Una volta scritta la formula dei composti binari è necessario dare ad essa un nome. Qui abbiamo H e Cl, secondo le regole per scrivere le formule abbiamo messo a sinistra l'idrogeno che è meno elettronegativo e a destra il cloro che invece è più elettronegativo. Ebbene la regola di base della nomenclatura IUPAC, quella razionale, più semplice, è quella di utilizzare i nomi, come posso dire, in croce. Praticamente si parte da destra, si parte dal nome, dalla radice del nome dell'elemento che sta sulla destra, cloro, si toglie la desinenza, la O, e alla radice del nome si aggiunge uro, per cui diventa cloruro. Dopodiché con un banale complemento di specificazione si specifica, appunto, si chiarisce qual è l'altro partner, qual è l'altro elemento a cui il cloro è legato, e si aggiunge cloruro, appunto, di idrogeno. Questo ovviamente è un caso estremamente semplice, ci sono una serie di eccezioni, per esempio quelli dell'ossigeno, non si chiamano ossigenuri come dovrebbero essere chiamati, ma siccome risulta cacofonico si preferisce la parola ossido. E poi ci sono anche degli altri esempi, quello dello zolfo, per esempio, la Z dello zolfo diventa S, ma la sostanza rimane questa. Qualora i partner presenti siano più di uno, però, è necessario utilizzare dei prefissi, per esempio, nel caso, appunto, del fosforo e del cloro, siccome del cloro sono necessari cinque atomi per che si leghino al fosforo, in questo caso, ovviamente, bisogna non semplicemente chiamare cloruro di fosforo, bensì con il prefisso, che sta per cinque, si dice pentacloruro di fosforo. Tranne dei casi particolari in cui è banalissimo, è molto semplice, per esempio, nel caso dei composti in cui ci sta l'ossigeno con un elemento del secondo gruppo, ad esempio, calcio e ossigeno, non ha senso dire ossido di calcio. Scusate, non ho fatto un esempio sbagliato. Del primo gruppo con l'ossigeno, il litio con l'ossigeno, dovrei dire, teoricamente, ossido di litio, però, ovviamente, non lo si fa, perché tutti sanno che il litio è monovalente, l'ossigeno è bivalente, quindi non avremo mai un composto LiO, ma sarà sempre Li2O. In questi casi, la nomenclatura IUPAC consente, anzi, suggerisce di non utilizzare affatto questi prefissi che sarebbero pleonastici. C'è poi un'altra, diciamo, aggiunta alla nomenclatura IUPAC, che è quella del sistema di stock, chiamato anche notazione di stock. Qual è la proposta di questo studioso? Di non fare la differenza utilizzando i prefissi, ma mettendo dopo il metallo la valenza del metallo. Vediamo il primo caso, questo, secondo la nomenclatura IUPAC, bisognerebbe chiamarlo tricloruro di ferro, in effetti così si chiama, e quest'altro dicloruro di ferro. Stock cosa propone? Di chiamarli entrambi cloruro di ferro, ma aggiungere in numeri romani, tra parentesi, la valenza del ferro. Quindi cloruro di ferro 3, cloruro di ferro 2. In questa maniera, sapendo che il cloro è monovalente, quando il ferro è trivalente è necessario avere 3 atomi di cloro. Quando il ferro è bivalente è necessario avere 2 atomi di cloro. È un meccanismo, diciamo, personalmente lo ritengo un pochino più farraginoso, però anche esso abbastanza semplice da utilizzare in alternativa alla nomenclatura IUPAC.